Il tuo torneo è molto bello, giocabilissimo, veramente complimenti all'organizzazione. Il mio torneo è stato in salita da subito, a parte poche carte, quelle poche che ho avuto, non ho mai preso un flop, infatti sono poi anche uscito non prendendo il flop e volendo poi vincere il piatto per forza, ma non ci sono riuscito e l'unica cosa che sono riuscito è stata quella di essere eliminato. Peccato, no? Perché il torneo è bello ed è molto tecnico, quindi si sarebbe potuto, sarebbe stato da divertirsi. Molto bello il torneo, molto giocabile e veramente è stata una bella esperienza. Bene, bene. E quali sono adesso i tuoi impegni prossimi come tornei live? Cioè l'impegno prossimo più immediato è quello di Inter Milan di questa sera. Che è più importante. Sì, e poi dopo domani vado a Berlino per l'EPT e poi Sanremo e Madrid e poi si vede. Molto bene. Allora ti ringraziamo intanto e in bocca al lupo. Grazie, grazie. Crepe il lupo.